buongiorno il vangelo di matteo oggi ci propone il capitolo 12 dal versetto 1 al versetto 8 incontriamo gesù che si scontra con i farisei le diatribe con questi uomini esperti della legge del popolo di israele sono parte integrante della missione di gesù chi sono i farisei sono uomini che conoscono bene la legge e la interpretano alla lettera ma la applicano mettendo le norme le regole al primo posto dimenticandosi che la legge che la legge di dio è stata donata al popolo per custodire difendere le persone la vita di tutti in particolare dei più poveri dei deboli oggi gesù si scontra per via della azione dei suoi discepoli che mangiano le spighe nei campi di grano in giorno di sabato e il sabato è il culmine della legge è il massimo dono che dio ha fatto attraverso la sua legge del sabato proprio i farisei hanno dimenticato il senso quel riposo che diventa proprio la possibilità di restituire la libertà e la dignità a tutte le persone soprattutto ai più poveri in particolare nei campi di grano dove anche coloro che non hanno nulla possono spigolare e raccogliere quanto è caduto a terra perché sì se si fa della legge qualcosa di più importante dell'uomo allora la stessa legge diventa schiavitù e diventa rivendicazione di proprietà privata diventa motivo di giudizio diventa sempre occasione per puntare il dito siamo invitati oggi a restituire alla legge di dio il giusto posto e al cuore di tutto gesù ci ricorda che misericordia ciò che dio vuole perché misericordia è il nome di dio stesso misericordia che viene da una parola che significa il grembo materno misericordia e l'utero che custodisce genera la vita di misericordia abbiamo immenso bisogno non puntare il dito negli altri non giudicare non utilizzare le formalità dei riti e delle indicazioni della vita cristiana pure importanti per sentirsi migliori e superiori degli altri di misericordia tutti abbiamo bisogno e misericordia gesù che volto del padre venuto sulla terra ci ha riempito il cuore e l'anima siamo noi pure oggi strumenti di misericordia mai di giudizio e restituiamo alle regole in particolare alla legge di dio e della religione l'essenza più profonda quel traboccare di vita che viene dal germe che genera grano ma soprattutto amore buona giornata